Tarfubuario ai ranghi di partenza nel segno della continuità. I neroverdi che a settembre disputeranno il campionato di eccellenza inseriti nel Girone C si sono ritrovati questo lunedì sera presso lo stadio comunale di Vieriga Monti per dare ufficialmente al via la preparazione in vista della nuova stagione. Una continuità espressa sul campo con numerose conferme e tre nuovi innesti, quello dall'attaccante classe 2002 Daniele Fenotti insieme ai ritorni, dal portiere Stefano Poetini e dal centrocampista Matteolini, ma anche in panchina con la piena fiducia riposta in mister Lucassana e il suo staff a seguito di una seconda parte di annata in crescendo che gli ha visti sfiorare di un soffio la finale playoff. La squadra ha come logica quella del mantenimento della rosa dell'anno scorso che nella seconda parte del campionato aveva fatto molto bene e quindi siamo partiti da quello, dalle conferme dei giocatori che noi ritenevamo importanti di quel gruppo. Abbiamo inserito tre giocatori, il secondo portiere perché abbiamo deciso di restare con i portieri vecchi. Quest'anno abbiamo messo Lini, che è un ritorno, che è cresciuto qui, che ha fatto esperienze importanti in giro ed ha caratteristiche che nel nostro centrocampo non c'erano e poi abbiamo puntato sul ragazzo del 2002 che l'anno scorso a Bedizio l'ha fatto molto bene, che è Fenotti e speriamo che ci dia soddisfazione. È chiaro che l'ambizione di migliorarci o comunque di confermare quanto di buono fatto, soprattutto nella seconda parte della stagione, quello c'è. Abbiamo cercato con il direttore sportivo Cantamessi e con Pegurri di mettere dei giocatori con dei profili dove probabilmente ci mancava qualcosa. Siamo ancora in attesa di riuscire a fare ancora un qualche colpo e poi speriamo di aver pescato ancora tanti giovani bravi come quelli dell'anno scorso. Chiaro che quest'anno le cose cambiano perché comunque sai come le aspettative sicuramente saranno importanti e quindi noi dovremo probabilmente lavorare ancora di più, lavorare duramente sul campo per cercare di raggiungere quelli che saranno poi gli obiettivi che la società si previsserà. Chiaro è, il girone è comunque un girone tosto come sempre e quindi toccherà a noi già da stasera cominciare a lavorare duro. Chiusa grandi linee la campagna acquisti si cerca ora un rinforzo offensivo che possa arricchire ulteriormente la rosa messa a disposizione dal presidente Walter Venturi. È chiaro che se dovessimo avere la possibilità di inserire una ciliegina probabilmente la inseriremo nel reparto offensivo, può essere una seconda punta, un trequartista, un centrocampista di qualità, vediamo. Noi siamo completi, siamo contenti della rosa che abbiamo, poi se il mercato è aperto fino al 16 di settembre, quindi tempo ce n'è, vediamo cosa succede. Sabato 27 agosto alle 17 al Comunale il primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro l'ospitaletto.